Un grande piacere avere al nostro microfono il professor Francesco Vaia, il direttore dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, che abbiamo imparato a conoscere l'Istituto e il dottor Vaia in questo anno e mezzo di Covid. Innanzitutto ben trovato, grazie per aver scelto la nostra isola, dottore. Sono appassionato dell'isola, quindi sono venuto con molto piacere anche a trovare degli amici. Grazie a voi. Tornando invece alle note vicende, che momento sta vivendo l'Italia adesso? Perché ci sono tante opinioni contrastanti, quel che è certo è che almeno dal punto di vista matematico il numero di casi Covid spare in aumento. Io credo che noi dobbiamo cominciare a cambiare comunicazione. Bisogna evitare di dare tanta legna da ardere a quella popolazione che io manco definisco, che sono numericamente pochi, anche se molto rumorosi. Io credo che noi dobbiamo rivolgerci soprattutto agli esitanti, ai figli di una pessima comunicazione che si è verificata più o meno intorno ad AstraZeneca e ai vaccini a vettore virale, che sono i cinquantenni e i sessantenni. Sono questi oggi il nostro problema. Come siamo messi? Siamo messi con alcune certezze e con alcuni dubbi, che ho anche io. Quali sono le certezze? Le certezze sono il vaccino, tutti i vaccini, ci proteggono rispetto alla malattia grave, rispetto alla ospedalizzazione e quindi rispetto alla mortalità. E i numeri sono numeri che ci dicono questo. Quando qualcuno, anche qualche autorevole giornalista di giornali importanti, dice che i numeri di oggi, dei contagi, di questa estate, sono più numerosi dell'estate scorsa, dice una cosa che vera in sé. Però bisogna spiegarla. Allora, l'anno scorso, l'estate scorsa, noi venivamo da una lunghissima, estenuante esperienza di lockdown. Eravamo stati chiusi per tanto tempo. E l'estate, quindi, è venuta subito dopo il lockdown. E poi abbiamo avuto settembre-ottobre, no? Con quella che è stata definita allora la terza ondata. Oggi veniamo da una riapertura lunga, con una decisione saggia, che ho condiviso del governo, che ha detto apriamo tutto. E rispetto a questo apriamo tutto, su quale io immediatamente ho detto sono d'accordo, c'era qualche profeta di sventura, quelli che ho chiamati i gufi, i gufetti, che hanno parlato addirittura di 20-30 mila, che agosto avremmo avuto 20-30 mila contagi. Così? Non è, fortunatamente. Ci siamo ormai standardizzati sui 5-6 mila. Il secondo elemento, quindi, primo elemento, il vaccino funziona. A valle di questa affermazione ce n'è un'altra. Chi è il contagiato di oggi e chi è il ricoverato di oggi? Il contagiato di oggi, il ricoverato di oggi è prevalentemente, non solo, prevalentemente un non vaccinato o un vaccinato in un'unica dose. C'è qualcuno che è vaccinato in doppia dose e che si ripositivizza? Sicuramente, ma perché? Intanto abbiamo sempre detto che nessun vaccino copre al 100%, ma al 92, al 93, al 94, quindi comunque scondiamo un residuo di 5-6-7%. Ma poi lei è diverso da me, lei è diversa da me e da lei. Perché? Dipende da come il nostro organismo risponde al vaccino. Ci sono gli immunodepressi, coloro che hanno avuto malattie tumorali gravi, per esempio i morbidi non-hocchin. Ci sono coloro che hanno deficit, ci sono i non-responder. Questi qua possono ripositivizzarsi. Allora qual è? Voglio dirlo, lo dico qui a rischia, lo dirò poi nei prossimi anche interventi. Qual è la soluzione? A mio giudizio c'è. La soluzione non è o non è esclusivamente una paventata terza dose, se non rischiamo, cioè quello che voglio dire, evitiamo di fare una pandemia lunga che non finisce mai e siamo, come dire, attaccati a questa dose, che può diventare una dose infinita. Una dose infinita, questa corsa al vaccino che ha dato alcuni effetti è servita, come diceva lei, a ridurre l'occupazione delle terapie intensive, la pressione su dei reparti che hanno vissuto probabilmente degli anni che non avrebbero mai immaginato in tutta la nostra Italia. ci sono però ancora delle paure legate proprio ai sieri, qualcuno si immagina che possano esserci sul medio-lungo termine delle conseguenze, è logico che chi li ha messi in atto questo non può assicurarlo che non ce ne siano, però non ci sono al momento, pare, ragioni di avere particolari timori. Ma anche qui, quando dico bisogna cambiare comunicazione, e non mi riferisco a voi, perché i media hanno sempre rilanciato il messaggio corretto e voi rilanciate quello che è il sentimento dell'opinione pubblica, mi riferisco alla comunità scientifica e anche a quella politica che ha fatto tanti errori. Cambiare comunicazione significa, noi dobbiamo evitare di dare, dicevo all'inizio, legna ad ardere a coloro che sono pregiudizialmente contrari. Se tu cominci a parlare di vaccino ai bambini quando statisticamente è irrilevante sia il contagio che la malattia nei bambini a di sotto di 12 anni, fai un errore. Dici praticamente alle popolazioni che sono contrarie questi vogliono vaccinare tutti. Quando tu parli in un momento nel quale non c'è ancora bisogno di terza dose, fai un errore, perché tu oggi devi spingere i 50 anni, i 60 anni e vaccinarsi, non pensare alla terza dose. Quindi oggi è il tempo di puntare ancora di più ad un altro strumento utile che non è alternativo al vaccino, ma che integra il vaccino che è l'anticorpo monoclonale. Noi abbiamo esperienze, vi dico cos'è in questo momento lo spallanzare, la terapia intensiva non è talmente affollata, c'è 15-16 persone ma sono tutti non vaccinati e questo è un dato importante. Abbiamo zero morti dei bambini, ma soprattutto i bambini hanno una degenza media di quattro giorni, che significa che è una malattia affatto complessa e quindi è sbagliato, ribadisco, in questo momento porre queste due opzioni, terza dose e vaccino ai bambini. Mentre dalla mia personale esperienza, non posso far nomi, ma anche persone importanti del mondo mio, del mondo della scienza, sono stati sottoposti ad anticorpi monoclonali e sono guariti, non hanno affatto fatto la terza dose. Il che significa che noi abbiamo un altro strumento, che ribadisco, integra il vaccino, lo integra e infine abbiamo il tempo dell'immunità. Quanto dura l'immunità? Quanto dura? Ci sono studi importanti che ci dicono che l'immunità cellulare ed altro può durare almeno fino a due anni. Per chiudere, un altro tema che ha appassionato tantissimo i dibattiti e quello legato al plasma, c'è stato un iniziale entusiasmo rispetto all'utilizzo del plasma iperimmune, poi questo entusiasmo si è un po' smorzato. Potrebbe dirci la sua su questo tipo di terapia? Noi abbiamo sperimentato il plasma iperimmune, ma il plasma iperimmune da convalescente è praticamente un plasma che contiene anticorpi, ma questi anticorpi devono essere neutralizzanti. E allora se tu vai in laboratorio e li sintetizzi, prendi direttamente gli anticorpi che hanno capacità neutralizzante, fai prima e fai anche meglio. Questo è il risultato di questa esperienza che non dobbiamo buttare via, anzi è stata un'esperienza importante e fondamentale che è la madre degli anticorpi monoclonali di oggi. Perfetto, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, ovviamente le auguriamo delle buone vacanze. Ci può dire il suo luogo dell'isola preferito? Sicuramente qui è un luogo, come dire, magico e sicuramente questo è un luogo del quale verrò sempre con grande piacere.